ovviamente mi capita di comprarne qualcuno ma metto un pochino a posto se vale la pena propongo a qualcuno di comprarlo ok questa è una tecnica tedesca non è recentissima però eccellente ecco questo è il mantice adesso vi faccio vedere anche che non perde assolutamente un filo d'aria ok poi la tastiera c'ha dieci registi però in effetti i 4 sono ripetuti quindi questi qua sono gli attivi vediamo un po' sentiamo cosa succede apertura e chiudura voce alta buon dole un due cambi al basso ah 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 Ok, metto. E c'è la scelta. Ovviamente è molto leggera, quindi è un grande lamento perché lo faccio anche in due video. Ok? Ok, penso di essere abbastanza esauriente. E' un po' vecchietta, però sta bene il fatto tutto. Questo poi è il cofano, non è perfetto, però ancora è in grado di consegnere la disarmonica e trasportarla da ogni male. Le cinghie sono ancora in buone condizioni. Beh, tutto sommato, alti prezzi e in apparecchio. Ok, ciao, a la prossima.